Continua il processo Xenia davanti al Tribunale di Locri, all'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Davanti alla Corte, presieduta dal giudice Fulvio Accurso, ieri hanno sfilato i testimoni delle difese. Tra questi, Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, ex vescovo di Locri e ora arcivescovo di Campobasso. Dice Bregantini, ero presente al primo sbarco di Curdi a Riace nel 1998 e in quell'occasione ho mobilitato tutta la comunità della diocesi per cercare di prestare aiuto. I migranti non sono persone da assistere ma sono stati energia vitale per la rinascita di Riace e di tutto il territorio. Lo ricordiamo, Giancarlo Maria Bregantini è stato vescovo dal 1994 al 2009 nella diocesi di Locri-Gerace. Ancora Bregantini ha ripercorso tutto il suo rapporto con Lucano, amichevole rapporto così egli stesso lo ha definito. Ma ovviamente ha parlato anche della positività dell'esperienza di accoglienza nel territorio di Riace. Dice Bregantini, c'era un ampio consenso intorno a lui. A seguire la testimonianza dell'ex vescovo è stata la volta del missionario comboniano. Si tratta di padre ex Alex Zanotelli. Dice padre Zanotelli, per Lucano questo processo è stato un colpo incredibile ma non l'ho mai sentito lamentarsi. È da anni che racconto la nostra amicizia. Ma ricordo che Mimmo Lucano continua ad aiutare i profughi, anche senza risorse, ce l'ha nel cuore.